Se vuoi fare un passo in avanti, devi perdere l'equilibrio per un attimo. Una metafora che descrive perfettamente lo spirito della slackline, una delle discipline che ha reso gli Extreme Days 2014 uno spettacolo unico nel suo genere. L'anima degli sport freestyle si è radunata nel centro di Sacine, per mettere a confronto le diverse angolazioni degli sport estremi. L'esploratore alpinista Danilo Callegari va a scoprire alcuni di questi significati, incontrando due grandi nomi della slackline, Armin Olser e Alessandro De Miglia. Rientriato ieri da una arrampicata con le picche su roccia, mi trovo dalla scomodità della verticale alla comodità di questa slackline in compagnia degli amici Armin e Alex. Che dire, siamo in piazza Sacina, gli Extreme Days, e sono felice perché anche loro sono qui oggi in questa provincia, che è la mia provincia di Pordenone, e mi rende felice ed orgoglioso. So che avete anche appena portato a termine un importante documentario su questa attività. Armin, che mi dici? Esatto, noi ogni anno sul Montepiano organizziamo un meeting che si chiama Highline Meeting Misurina, che è il raduno ormai, uno dei raduni più grandi al mondo di slackline, di Highline. Avevamo più di 200 partecipanti alla nostra scorsa edizione 2013, da 18 diverse nazionalità, e proprio di questo abbiamo fatto un film. Ci piace anche condividere questa grande passione che abbiamo e sperando di far avvicinare di più ai giovani anche alla montagna, insomma. Bello, bello, bello. Da appassionato di montagna come sono io, legare un'attività come questa, che sicuramente aiuta l'equilibrio, legarla in città è qualcosa di straordinario. Come è nata per curiosità questa passione e soprattutto il rapporto tra voi due, Armin? Ma con la slackline è partito quando avevo 18 anni, era partito proprio che un mio amico mi ha fatto vedere e da là è iniziata proprio questa passione che ormai mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato proprio il modo di mangiare, di bere, tutto quanto, ed è veramente una bellissima cosa. Poi con Ale è stato così che una volta sono stato a Far Island sulle tre cime di Lavaredo, sotto su una baita, ho visto lui e abbiamo iniziato un po' a chiacchierare, abbiamo detto dai andiamo a scalare una volta insieme e all'inizio io quasi non parlavo neanche una parola in italiano, faceva fatica a parlare con lui e così sempre frequentandoci io ho imparato a parlare bene l'italiano, lui ha migliorato un po' il tedesco, un pochino, ma entrambi abbiamo fatto sempre questa highline insieme, così questa fune proprio ha unito non solo noi due ma anche le nostre mentalità diverse, io come altoatesino, madrelingua tedesca, lui italiano, ci siamo visti proprio sul confine, sul monte piana poi anche, e ormai facciamo tante cose o quasi tutto insieme. Camminare su una fettuccia larga appena due centimetri e mezzo sospesi nel vuoto di Piazza Duomo, appendere la maca per godersi lo spettacolo da una posizione tanto privilegiata quanto particolare, questo lo spirito di Armin e Alex, lo stesso spirito che ha reso gli Extreme Days una festa per tutte le discipline che non conoscono limiti.